cari amici bentrovati il cammino della quaresima va verso il suo culmine e allora mi sembra bello partire dalla prima lettura che ascolteremo in questa domenica il profeta Isaia che ci dice ecco faccio una cosa nuova proprio ora germoglia non ve ne accorgete e mi chiedo che cos'è questa cosa nuova che il Signore fa che cose il Signore realizza per noi di nuovo la cosa nuova che il Signore fa è la sua misericordia Gesù dirà all'adultera di cui sentiremo fra qualche momento nel Vangelo neanch'io ti condanno va ed ora in poi non peccare più la cosa nuova che il Signore fa è la sua misericordia con la quale ci rende nuovi sempre questa è una delle pagine di Vangelo che mi attrae di più permettete questa sottolineatura personale perché il Signore si muove con assoluta leggerezza e con signorile chiarezza risolve quello che sarebbe stato un caso singolare della legislazione ebraica allora come oggi nell'ambito del diritto la sentenza avrebbe continuato a fare scuola e Gesù arriva a una sentenza veramente nuova totalmente imprevedibile peccato che la sua sentenza non riesca ancora ai nostri giorni a fare completamente scuola ascoltiamo allora la pagina evangelica dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli ulivi ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise ad insegnare loro allora gli scrive i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio la posero in mezzo e gli dissero maestro questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa tu che ne dici dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito sulla terra tuttavia poiché insistevano in interrogarlo si alzò e disse loro chi di voi senza peccato getti per primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva per terra quelli udito ciò se ne andarono uno per uno cominciando dei più anziani lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo allora Gesù si alzò e le disse donna dove sono nessuno ti ha condannata e della rispose nessuno signore e Gesù disse neanch'io ti condanno va ed ora in poi non peccare più vi dicevo mi piace questa pagina di Vangelo perché Gesù non tralascia di fare chiarezza chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei d'altra parte cari amici se questa donna è stata scoperta in flagrante adulterio mi chiedo dov'è l'altro colpevole è solo lei la colpevole del peccato consumato oppure certi peccati si fanno in due ma la colpevole è solo una se ne andarono uno per uno non mi sarei meravigliato se si fosse scoperto che tra quegli uomini ci fosse stato anche l'adultero anche perché se c'è un'adultera normalmente c'è anche un adultero lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo qui abbiamo il mirabile commento di sant'agostino che ha fatto scuola e grazie a dio continuerà a fare scuola rimasero soltanto loro due scrive agostino la misera e la misericordia misericordia e misera sono le due parole che agostino utilizza per raccontare l'incontro tra Gesù e l'adultera ma sono anche le due parole con le quali possiamo raccontare il nostro incontro con il Signore Gesù ci insegna che la miseria umana può essere affrontata e sanata solo dalla misericordia attenzione la misericordia non è il perdono ad ogni costo il Signore non mette una pietra sopra il peccato commesso anzi invita quella donna a non peccare più il Signore sa che la vera salvezza di quella donna e la vera salvezza nostra viene dalle sue viscere di misericordia dal suo cuore misericordioso cioè dalla sua determinazione a salvarci nonostante tutto dio è misericordia perché è soprattutto deciso a salvarci dio con noi non getta la spugna non dice impossibile il Signore non si rassegna al fatto di dire questo non ce la farà la misericordia è la scelta di salvezza che Dio mette in atto per noi prima e ogni nostro e oltre ogni nostro peccato o fragilità vedete il Signore è semplicemente preoccupato di salvarci mai di condannarci per noi sarebbe molto più facile o metterci una pietra sopra oppure diventare dei giustizialisti a oltranza il cuore di Dio che è sempre preoccupato di salvare mai di condannare e come il cuore di una madre disposta a tutto anche per il figlio più disgraziato adempiremo la misericordia di Dio non perché ci mettiamo una pietra sopra o facciamo finta di niente e tanto meno perché intendiamo farla pagare ma siamo nella misericordia di Dio perché come lui siamo capaci innanzitutto di salvare Gesù nella sua passione farà la fatica di salvare e noi nella sua misericordia dobbiamo fare la fatica di salvare i nostri fratelli oggi inizia quella che nella tradizione cristiana è la settimana di passione e un tempo si velavano le croci le immagini era un segno per dire che abbiamo bisogno di riscoprire in modo nuovo l'amore che ci salva la croce sarà svelata il venerdì santo per adorare il crocifisso e accogliere il dono sempre nuovo della sua misericordia che salva ecco permettiamo al signore di salvarci attraverso una confessione pasquale ben fatta dove il signore a ciascuno di noi dice io sono qui per salvarti non ti condanno va in pace non peccare più prepariamoci ed entriamo con fiducia nel confessionale certi che il signore ci attende e ci vuole bene infinitamente buon cammino di quaresima buona confessione pasquale auguri buon cammino di quattro Grazie a tutti.